ciao qui siamo a la playa francesa all'isola di graziosa oggi è come sempre stupendo qui sono delle spiaggette favolose praticamente altro che altro che caraibi qui oggi la nostra cassettina è questa qua si mancia è pronto il pranzo questa è il vulcano si chiama la montagna amarilla e nera e amarilla bellissimo stupendo buona domenica a tutti e forza napoli ciao